Rocca d'Aspide, 19 settembre, il traguardo è arrivato. Siamo arrivati, sono tantissime settimane che diciamo questa data. Rocca d'Aspide, il 19. E oggi eccola qui, il tempo è volato. Le due conduttrici della finalissima di Miss Sud Italia, Emanuela Vitale, Giulia Montanarini, la bionda e la bruna. Emanuela. E allora, 19 settembre, alla vigilia del 20 settembre, sarà incoronata la Miss Sud Italia 2015 e la piazza, non a caso, si chiama Piazza 20 Settembre. Per cui complimenti all'organizzatore di questo tour, che è stato appunto un vero e proprio tour per valorizzare non soltanto le bellezze del Sud Italia, ma anche i nostri territori, insomma soprattutto quello campano. Per cui che vadano avanti queste iniziative e che vengano sempre di più appoggiate. Infatti, cultura e bellezza, abbiamo toccato tanti posti meravigliosi della nostra campagna, Giulia. Stasera sono tante le finaliste, circa 26. Arrivano dalla Sicilia, dalla Puglia, dalla Calabria. Devo dire che le ragazze sono tutte molto belle, tante giovani e tante agguerrite. Anzi, mi dicevano che le ragazze sono più giovanissime che maggiorenni, vero? Sì, dai 14 ai 17 anni, se non ero su 26, ce ne sono 8. Senti, noi vi abbiamo seguito in tutto questo tour, Giulia. Adesso ci dobbiamo lasciare, però vogliamo sapere, soprattutto per i nostri telespettatori, quali sono i progetti di Giulia Montanarini. Allora, in concomitanza di questo concorso sto preparando il mio primo musical. Debutterò il 16 novembre al Quirino, una commedia bellissima che parlerà delle statue parlanti di Roma. Tantissimi sono i protagonisti, tra cui Massimiliano Buzanca, Pier Maria Cecchini e tantissimi altri. Tantissimi altri. Un'emozione grandissima perché dopo tantissimi anni ritorno in teatro e poi riuscirò anche a cantare, ballare, un sogno che si sta realizzando. Allora veniamo con le telecamere di eventi in anteprima. 16 novembre al Quirino. Che bello! E invece i progetti di Emanuela? Anche io amo il teatro, è sempre stato il mio primo amore ed è proprio in teatro che continuerò con la conduzione della Gimmoni Strada. È una gara federale che abbina la danza alla ginnastica artistica. Esistono anche le olimpiadi di questa disciplina, una volta ogni quattro anni come ogni sport e la cosa bella è che è aperta a tutti, a persone di ogni abilità e di ogni età che abbiano voglia di muoversi e insomma di stare in aggregazione perché lo scopo di questo sport è quello di portare poi ai mondiali quelle che sono le tradizioni e il folklore del proprio paese.